Eh, che hai fatto? Eh, sì, stiamo in game noi Ok, basta il modo Basta il modo dicevi più Ci senti quindi? Sì, sì, mi sento No, non sentiamo te Come non sentivo io? Venigli in po' Oh, project come è qua? Sto qua Oh, ecco, ecco Allora, possiamo partire oppure devi far partire la live? Ho fatto, ho fatto, già sta live la live Allora, io porto Termometro Guarda, a me mi sono rimasti i 20 dollari degli edit che avevamo perso Guarda, io C'ho torcia elettrica A me è tretta Videocamera Porta la torcia all'incenso e alla telecamera, porta tutto te Ok, porto tutto Allora, ho fatto il sale Il sale che è letto Che viene letto, sa Basta La farò ogni volta Andiamo Blizzdale Farmhouse Grappone Farmhouse Quello che ti vale Allora, street house Vai, street house Vai, street house Street house Deve essere più spughi possibile Ok, ho messo pronti La farmhouse era di spughi Vai, vai, vai Ho messo pronti Fatta Sì, è stato un' Sparò è un' laga, un' faga Num' briga, non' figa, non' buga, non' faga Brah 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 bhah Brah 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 Fai un po' handbanging Fai un po' handbanging Aspetta che non c'è la mano su No, totale, fallo da dietro e poi avanti E lo sto a fare, è così E' lentissimo Si, è lentissimo Ha paura Io devo respirare col naso se non muore No, Valerio Valerio no, Valerio no, Valerio no, Valerio no Eh, 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 eh Leggi il nome, leggi il nome È lei No, leggi il nome e basta No, è il fratello È il fratello, no Risponde a tutti, no No, quello di ieri No Oddio mio Ok, ok, ok Torcia, videocamera Io prendo il termometro Io prendo il libro allora Io che altro lo prendo? E tu che c'hai? Videocamera, torcia, è un'altra videocamera, che faccio? Ah, prendi la luce UV Eh, io no, non lo so usare Vai, vai Let's go, oh no È la stessa casa No, Valerio è la stessa casa e tu hai detto la stessa identica frase quando siamo partiti Ma sono rivistata la live questa mattina È il fratello È il fratello, no Valerio, per favore Come si chiama? William 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 Moore, come si chiama? Vedete Dentro la casa Ok, ok, ci sono ritorno Vale, io direi di tornare un attimo in garage Direi di tornare in garage, vale Vale No, pensavo di aver visto Pensavo di aver visto i cosi Il freddo in bocca No, il freddo in bocca, il freddo L'avete visto lui? Eh Oddio Oddio No, perché se non mi pare È il termometro termometroso Oh no È lo, è lo, è lo È lo Non è qui? No, no, Valerio è lì, no Lì, no Oh, sei fortunato, sei fortunato Ah Piano di sopra, piano di sopra Ok, sopra No No, scantinato no Eh, dobbiamo andare in qua Oh, oh Dio Oh my god Oh, però fa molto meno the next Revoluzione Eh, vai край Magari non da solo Oh, c'è la tabula, c'è la tabula E che ci fai magari? La na, Luigi Dove sei? Dove sei? Dove sei Hai sentito? No Si, ho sentito Dove ti trovi? In che stanza sei? Sei qui? Oh, che cazzo? M Fatemi vedere, regge M A Ma 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 No C'era B Buster B Master Band Master Band Aspettate 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 Oh Qua non l'ho accesa io Non l'ho accesa io Oh, no Merda Oh E Il Demonio Qual è la Master Band Che vuol dire Eh, sta su Non credo Non credo sia questa Vale Vale Scricchio lì a sinistra Questo no Eh, niente Qui La temperatura Non è neanche questa Ma Dove c'è Le MF La Non è neanche questa Uno Uno Eh, vale Però Non ho detto Che cambia Forza La temperatura Eh Sì, sì, sì La temperatura Cala Perché c'è un fantasma Non è questa C'è ancora Una porta Sta qui Sta qui Fins in temperature Fins in temperature Sì, sì Ok Eh, che faccio E butto il Cosa Va a radio Sì Mettere la telecamera Due 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 Tre 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 Ok Metti una cosa Alessandra Metti una videocamera Eh, un attimo Lascia Metti Sto troppo lontano William Moore Sei qui Ho acceso Sì Ok Un intizio Sì, già ci abbiamo William Moore Sei qui Puoi parlare Come si vedono Le impronte digitali Eh, se tocca qualcosa Ci vai con la luce accesa E vedi che è il punto Puoi parlare Uno Dacci un segno Dacci un segno Tre 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 Ok Sta qui Quattro Puoi parlare È dietro di me Zitti È dietro di me Quanto è? Quanto è? È cinque Ok, ok Quattro Ci abbiamo Ci abbiamo il libro Ci abbiamo il libro Sì, ma uno dovrebbe sta Però Uno però dovrebbe sta Ma possiamo andare via Allora Ci abbiamo Già Quanti anni hai? Ok, due Uno L'ho attaccata Sta lì Già sta lì Uno dovrebbe sta dentro Al camion però Dovrebbe vedere se ci stanno Le ormi Ok, andiamo 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 Che cos'è sta casa? Valerio Che cos'è la casa? Non ho capito bene Abbiamo vinto Già Finito Ghost Orb Abbiamo fatto Fatto GG E nuiurei Fermo Fermo Fammi Mentre pulito Prove Vediamo un po' Vai 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 Mamma Quattro Sono forci Che Qual era? Vogliamo prendere la foto Del fantasma Che era? Spirit Box Che cos'era? Libro 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 spiritico Sfaro di luce E templatore di congelamento Figurei Gigi Domiziano Sta tipo impazzito Guarda Sono 30 Sono tanto tranquillo Perché te l'ho fissato? Io pure l'ho visto Io ho visto l'ombra Vogliamo rientrare Prova a fare una foto? Ma dove vedi il comfort? Dove lo vedi? È passato lì È passato lì a sinistra Guarda E vissi Ok No Perfetto Non l'ho visto io Perché Dai a dire Sua che c'è la Non è Non è polvere Ogni foto vedi Tipo delle lucette Che passano Eccola Ho visto Ho visto Vista Vista Eccolo Eccolo Vabbè Ehm Che dobbiamo fare? Vabbè Con Sorbo Vogliamo rientrare E fare una foto? No Pensai io devo andare al bagno Torno tra un po' E devo andare al bagno Vai vai Allora andiamo via Vabbè Allora andiamo a fare la foto Andiamo a fare la foto Ho lasciato l'MF Come andiamo a fare la foto? No Valeria Che cazzo ho fatto? Andiamo a fare la foto All'MF non ci serve a fare niente Prendi l'incenzo Ma l'incenzo Non è bene l'incenzo Serve a niente Perché abbiamo dimenticato l'accendito Il sale Qual è il sale Prendi il sale Il sale Dove metto il sale? La fotocamera Dove prende? Dove prende la fotocamera? Fai sinistro Fai sinistro Bene Sto contento Che cazzo di spavento Non lo fare mai più Che cosa? Mi ha fatto spavondarla Vale ma io non voglio fare la foto al fantasma Se devo fare la foto a qualche cosa Va bene ma al fantasma Soldi! Devi pensare soldi! Money! Ah vale prima stava qui Signorotto Mi metto nell'angolino E mi metto nell'altro William Moore sei qui Ma perché mi ha fatto venire pure a me? Perché così siamo in due Ah eh sì eh Almeno uno sopravvive Almeno uno sopravvive Ma io parte i soldi poi Dacci un segno È qui è qui Ma se io faccio la foto alla videocamera Che ho posizionato Non conta come stava Oh la porta Oh eccolo le foto Via 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 Cioè tu gli hai fatto una foto BG Mai più Via 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 BG Ma appena siamo le possiamo vedere Sul quadernino le foto Adesso io ho fatto una foto perfetta La puoi vedere? Sì molto sul quaderno Se possono vedere le foto Sì sì vedi la vedi la Vedi la da qua perché è più bella Guarda guarda Aspetta Ma non c'è niente C'è la gamba Hai visto che bello che è? Sì La gamba Ma 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 No No Vabbè vabbè Non conta Mi dispiace Come non conta Mi dispiace Andiamo Rientriamo Solo perché giorno Solo perché giorno Rientriamo Fai lo sgargiullo Fai lo sgargiullo Solo perché giorno Vai vai Me lo sento parla No 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 Non è possibile Non è possibile Via 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 Questa conta Questa conta Questa conta E' fatta E' fatta E' fatta Guarda che bello Guarda che bello che è La mano Chi è? No Valè Valerio no Cosa? Non l'ha contata No l'ha contata Oh c'è scritto sul taccuino Fantasma C'è scritto Ah Vabbè A posto Abbiamo in Valerio Let's go Fate 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 Io sto perdo il frame Aspetta un attimo Vabbè chi c'è il frame Abbiamo preso 50 dollari Oh Sto perdo il frame Aspetta Aspetta Valè Ok mi senti? Oh livello 3 Si si quello Quello la compro subito La compro subito Ho comprato anche io La torce elettrica Torce elettrica Togliamole Non le mettiamo Adesso mettemo la torce potente Torno subito Valè Un attimo solo Ecco Eccomi Oh Ci vede? Si siamo a livello 3 Dai Abbiamo fatto due foto Domiziello Vi ho vede le foto del fantasma No dove stanno le foto No le foto Eccola eccola Valè Eccola qui Eccolo guardalo 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 Eccola E' questa qua Valè C'è pure una qua Dove? Quella sotto Si sotto Si Chi è? E' l'ombra Ma ci allascia il fantasma? E' la E' si perché E' un Uuuei Uuuei Quanta dollari Questa qua Dite Fammi un po' vedere quella lì Ma mi sa che ce l'ha Ma mi sa che ce l'ha diverse lui da noi Valerio Valerio Eh Quello lì Io non ci sono in questa foto Tu ricordi che mi fai cheese Non ci sono io in una foto Si Non ci sei perché te non te vedi Quando fai Non so perché L'hai fatta tu la foto Valerio Eh Se io faccio una foto a te Te non te vedi nella foto Solo te però Ma perché? Io te vedo Non l'ho capita sta cosa Comunque noi ce l'abbiamo qua sotto C'è tipo Eccola qui La foto Capitare che gli abbiamo fatto due foto Ma non ce l'ha contata Non ce l'ha contata alla fine No E Dorcia potente E Si Compra Dorcia potente Quanto del mio Di 50 no? Costa 50 Che altro Alla Che altro Dorcia potente Eh niente Ho finito i soldi Il prossimo Comprano Alla Veccio in camera Ok Il morto Dove c'è? Sono uscito Per sbaglio Aspetta Come Come Com'era il codice? 866 968 Dai Che rispaunano Ok Abbiamo sbloccato le mappe De medie dimensioni Oh no Siete pronti? No Che cosa? Ice pool Oh 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 Vai 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 Oh Cacchio Mi sentite Mi sentite su discord No Mi sentite su discord Si Si Eh ok Ok no Non c'ho più di Ok Mi rimuto Oh Eh Andiamo Metti pronto Che succede Che succede qui con Domiziano Che succede? Che succede? Domiziano che lanciava la cosa molteplici volte Abbirate Che bag Il bag Guarda che bag È il giocoliere Il giocoliere È il giocoliere Guarda È il giocoliere Domiziano di mettere pronto Basta che premi Spazio Chi è? Giù È bellissima S'immagine Naruto Naruto Run Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ok valerio te sei perso te sei perso domenica che faceva la naruto run no eh si voglio vedere la torcia grande valerio guarda quanto è grosso è media questa ma che cazzo è enorme sta cosa c'ha pure il piano sotto questa qua è consigliata per tre giocatori no vale è troppo grande vale è troppo grande guarda stiamo in pazzi solo a vederla lo vedi ok allora linda anderson soltanto alle persone da sole no non è troppo grande domenica guarda la mappa oh non mi ruba dalla torcia grande che ve meno le torci potenti stanno qua sotto ok ma non è potente è uguale a quell'altra è un po' più potente prendo il termometro il mio videocamera l'emf chi l'ha preso io mf ragionino dai io prendo allora linda anderson che dobbiamo fa stanza in meno 10 gradi assiste a un evento paranormale purifica l'aria con l'incenso dai andiamo no ecco l'incenso ecco lì aspettate aspettate pallio ecco un attimo coronavirus devo misurare la febbre ah che palle 16 gradi a posto perfetto si ma una scuola ma come cazzo ti permetti di fare una scuola del genere guardate è cosa è l'attanzio eh si eh no vale no vale questi sono pazzi vai vai su vale ma è troppo grosso questo posto ma che spugli spugli ecco sì sì questa qua è media speriamo che sia vicino al coso michael jackson sei qui come si chiamava linda anderson linda si chiama linda linda sì 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 ma stanza quanto è grande ma magari c'è posto la stanza di grosse qua oltre eh ecco perché noi siamo è la mensa questa vale no questa è la classe nostra eh sì più o meno questa è la mensa che ti ho detto io non c'è lì l'italy goodbye linda anderson dimmi che non è qui dimmi che non è qui perché la campanza è enorme ok non è qui non è qui è messo ancora uno perché ti tiene sveglio acceso il cervello capito quindi te sei sempre paura tu fratello mi ha fatto prendere in colpo a lei non così questo è cos'è il laboratorio di chimica questo ma dove sta sto colto no ma state sì c'è stanno le scale c'è stanno le scale però sto a domenico Bini sei qui la proposta la proposta la proposta la proposta valerio mi stavo facendo il giro valerio poi adesso lo facciamo lampeggia 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 no no è Doniziano che sa fare lampeggi sì ma non puoi accendere la luce fino a quando uno lo trovi eccolo ho trovato secondo me sta in bagno secondo me è morto mentre c'è avuto l'emorroide è morto ma manca un rumore poi sentissimo mezzo rumore sì ma il problema era sai che bello ieri sera con questa mappa ha brutte notizie eh oh ho sentito un rumore scale te l'ho detto te l'ho detto c'era una scale scale ok la io se io se io ho sentito un rumore io pure io pure va ti fareva let's go let's go let's go tienilo dritto quel coso vale per favore l'entrata è giù le scale destra sinistra vedo ah ma la torcia gigante la metti sulla spalla ma è OP sta cosa sì sì certo è una torcia normale è quella che sto facendo pezzo di me Linda Anderson vieni qua vieni qua Linda Anderson vieni qua no no ma sta la conferenza l'ho la magna questa qui l'ho la magna l'ho la magna l'ho la magna lo sta a punti lo sta a punti avete sentito pure voi no no io ho sentito qualcosa scricchiola è il tavolo mio vuoi respirare con la bocca non ce la faccio non è manco questa fermo beh vediamo se c'è stata la tavola per terra magari riusciamo a capire io per l'ho c'è la videocamera sì Alessandro perfetto no perché c'è qua le potessimo perché sicuramente qua c'è un caro tre scale perché noi non stiamo persi no che stiamo a ritrovare non ti conoscevo a ritrovare andate via a vetro scendi eh sì Valerio eh sì Valerio venite qui da dove cos'è sta roba bu bu mamma mia ho visto la sedia infartato pensavo fosse un bambino ciao bambino come va oggi ma perché c'erano i telefoni questi qui asset riutilizzati da prima il telefono è una prova no eh ma che posso vedere sul telefono se c'erano le impronte ma sta porta qui così è tipo una lastra era qui no fermo 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 Valerio c'è qualcosa che lampeggia sotto al tavolo c'è qualcosa che lampeggia sotto al tavolo è un quaderno è un quaderno e me lampeggia ma che ne so è un quaderno buggato sto contento vediamo un po' se c'è l'italia sulla cartina c'è l'italia sulla cartina bravissimo bisognerebbe accendere le luci sulle stanze che abbiamo visitato che cazzo chi è acceso io lo sentite il telefono si andavo giù vale no però qui 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 è una delle scuole dove ci stavano le aule maschili e femminili quindi Linda Linda è una femminile questa qui è una stanza femminile ho scoperto il mio trofeo tutto qua ma è stato un acaso il Fatalma no no il gioco è fatto bene questo aspetta tipo oh l'hai visto no io vale ho visto il coso del freddo sulla bocca però mi sa che sono bug capito vale capito ho visto il coso del freddo però mi sa che era un bug dove ah beh vale quanta temperatura è sempre incustabile basta fammi prendere i corpi che mi sembra una roba volante con queste cose io continuo a accendere le luci in tutte le stanze dove entriamo oh che che si 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 scomodo l'interruttore dietro la che cosa che cosa e and what se non mi fai accendere le luci ah no non c'è porta questo comunque no cioè mi pare tipo più ci accendi si l'ho visto e stava sotto le scale vicino all'entrata si l'ho visto anche dottore dottore la cosa è uscita vale è uscita ma dai ok vuote giro ah il suono la campanella la campanella no la campanella il telefono il telefono che cacchio la campanella la scuola ma lei stava a sinistra la campanella non stava qui ma non qui qui ci siamo già passati torniamo indietro come si apre qua ci sono passati hai acceso te la luce falsa no è la tua ombra vammaggio ma lei non ha acceso nessuna luce qua c'è la luce qua c'è la luce accesa qua c'è la luce accesa le state qua cosa è acceso io mi sa che mai mi sono riaccente qui 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 freezing temperature fermi metto la telecamera fermi eh ciao anche l'MF nessuno qualcuno deve entrare ha voluto l'MF coso adesso usa l'MF coso era il fardello piazza la videocamera ho già fatto eccola non so se è acceso però ok ma sta in altissimo non becca nienta oh oh mamma mia devi prenderla tira sulla cattedra oh oh l'MF con il tappo 2 2 2 2 2 2 aspettate fermi fermi aspetta metto sulla cattedra 2 2 2 vabbè che facciamo dove devono perri indietro oh oh caldo abbiamo assistito abbiamo assistito un fenomeno niente fenomeno eh è fatto di più ancora dietro ti lascio l'UV come c'è si l'UV cosa ti lascio la torcia UV sì dai lascio vai fermo vale fermo aspetta ok vale oddio che spavento che spavento che spavento st'attacca st'attacca se non funzionano prendete le luci e mettetele in un angolino arrivi? non c'è non c'è non c'è c'è nessuno? Domiziano? Valerio? sono morti oh no no merda e mo? vai vai vieni qui e vai tu dentro non ha capito non c'è non c'è non c'è non c'è neanche più la stanza ecco la no io non voglio andare lì ma lì c'è il telefono eh sì pronto chi è? salve signora Linda che cosa devo cercare preciso? no ce l'ho a Domiziano no ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io l'ho vista l'ho vista l'ho vista vedi un po' sul coso sul telefono non so se come si vedono le impronte digitali Valerio non e vedi un qualcosa che è da dammela 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 volei 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 a terra a terra non c'è stanza dobbiamo andarcene dobbiamo andarcene fai vai l'hai chiusa tu? non l'ho chiusa io no spengi spengi non stanza c'è esci sbrigate destra 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 va bene dimmi che ha toccato la porta dimmi che sono rimasto no no via via freezing temperature è 5 si però ci abbiamo questo ok mi sa che ci starà a guardare lo sai ciao dove c'è no si ci sento pure ciao dove c'è ciao ok è stato terribile è stato veramente terribile è stato il primo a cadere senti sti rumori vale si si sono i cico lì che fanno madonna vale mamma mia vale ok hai messo la telecamera si ho messo la telecamera preghiamo nico fordo mamma mia se c'è sta nico fordo che bello mamma mia oh oh tanti la libertà vale mamma mia che ansia madonna io mi sono cagato quando è morto domiziano mi sono cagato in mano però non faccio dai domiziano no domiziano no io sono diventa pazzo c'ho 27 vale la telecamera vale 21 speriamo dai dai qualcosa qualcosa no io cosa può essere cielo è freddo si phantom phantom banshee uno dei due phantom o banshee vediamo se non fa spara delle luci se impronte digitali mettiamo con l'altro però io non vedo spara delle luci quindi secondo me non ci fa guarda ho trovato un piccolo bug del gioco se tu se tu continui a scorrere con la terza prova ok se tu io messo se metti terza prova spirit box non ti da nessun fantasma si lo so non è un bug perché c'è nessun fantasma che c'è quelle prove è impronte digitali banshee sfera di luce phantom allora sfera di luce non ci sono quindi non è phantom è banshee è banshee dai andiamo aspetta metto banshee vai vado vai vai valerio aspetta ma dobbiamo purificare l'aria nei pressi del fantasma valerio c'hanno caduto non era non era banshee come non era una banshee ma ci credi ci credi valerio ma leon ghost orb non c'erano lo so è perché dovevamo ripiazzare la telecamera che ti ha preso con le sue manine ti ha preso domiziano è evocato ti ha rapito domiziano domiziano mi stavo seguendo più che altro il valerio che fa se tu premi pochissimo il tasto senti ma non se tu è tipo quella spirit box del mio figo guarda però tu ogni tanto devi fare quel coso con la radio lì facevi no lo so lo so mi dimentico anche se ti caghi in mano a parte io mamma mia io l'ho sentito io l'ho sentito mi son messo mamma mia giocoliere da 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 ma mi vado perché cambia colore come fai a cambiare colore datemi il codice ecco aspetta 866968 8669 9668 ecco come fai a cambiare colore perchè perdi gli oggetti no no me l'ho persa oh gg che bello oh io mi posso comprare l'action camera no lì all'otto lì all'otto ho 75 dollari fermi ok facciamo abbiamo tanglewood street graffion farmhouse high school no edgefield street house perchè ho sento buonissimo domiziano facciamo street facciamo street facciamo street guida è buggato vada vada per street difficoltà dilettante bla 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 lo porto io il termometro si andiamo ti porto addio a dopo prima domiziano prima domiziano ti sei perso la naruto run prima domiziano ti sei perso prima domiziano ti sei perso la naruto run che stavi facendo che bravo che sei che bravo che sei patricia taylor attenzione ok serve valeria serve il termometro abbiamo due accendine e due incendine valerio l'acqua sporca nel lavandino quella del video di otobico che devo fare che devo fare io porto u a v si ho v vabbè u a v u a v porta u a v porta u a v vale dì let's go per favore dì let's go vale per favore più d'altro è il sottofondo che rompe le palle ok eh è il sottofondo che rompe le palle ma me è veramente fastidioso se si è fatto effettamente più ansia guarda c'è il terzo dovrebbe stare freezing temperatur da qualche parte perché è proprio uno degli obiettivi oh 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 c'è la fotocamera? no vabbè dopo passiamo non raccoglielo non raccoglietelo ma che cos'è che cos'è eh no ok ma perché sento la musica ogni tanto qui non è qui non è è Valeria eh sì io figuro è mi sorella fantasma napoletano fantasma napoletano oh è qui è qui è qui è qui telecamera signori non è preso in temperatura però è basso è basso sì sì quanto è basso quanto è basso è 3.6 3.6 qua c'è stata una candela per terra il pianoforte il pianoforte il pianoforte bip pianoforte 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 spegni la torcia spegni la torcia va bene va bene puoi parlare voglio caro 2 non la voglio 5 5 allora freezing temperature 5 accendino a che serve guarda le orbe le orbe ma è giorno bisogna stare attenti perché a quanto pare le orbe c'erano sull'altro ok si vengo io vengo io che devo portare usa b vabbè non serve più l'emf eh un attimo dimmi che devo prendere dimmi incenso che prendo l'incenso che prendo serve l'incenso vale prendo l'incenso porta l'incenso c'era questa con l'incenso si e vai come si accende come si accende ce l'hai uno ce l'hai uno ce l'hai uno ce l'hai uno dammi l'ubi dammi l'ubi ok prendi la tosse e se ti fa torniamo si l'abbiamo lasciato lì infatti no ce l'ho in mano perché l'avete forse dietro uso l'incenso vai incenso incenso gott'orbo gott'orbo è fatta fatta no 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 aspettate aspettate fermi fatemi fatemi l'incenso come si usa vale vale eccolo eccolo ce l'ho ce l'ho ce l'ho mi sei spuntato sulla lavagna accompagnami 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 a posto andiamo corri vale torna via dove sei andato valerio vieni qui quella non era l'uscita il lavandino vale dobbiamo trovare il lavandino eccolo qua l'ho trovato dovrebbe essere questo no cucina anche questo anche questo è pulito quello del bagno qui che c'è qual è il bagno che cosa hai fatto ho sbagliato ho cliccato male il bagno è quello centrale quello sta qua che bagno ha avuto non c'era qualcosa cimiterrato non c'è un po' troppe stanze sta cazzo le cose no vale qui non c'è il bagno oddio qui c'è il bagno ma che palle è tutto pulito qui si si ma vedi costo l'orbo dove c'è si si non è che non è che deve aprirlo lui il lavandino vuoi dirci qualcosa si si mi interrato vale proviamo ma si mi interrato si mi interrato si mi interrato che c'era niente è difficile che si sposta che c'era ghost or quindi c'erano Crocifisso Io crocifisso Io arrivo col crocifisso Eh? Puoi toccare qualcosa? Puoi lanciarci qualcosa? Come si chiamava? Patricia Taylor Patricia Taylor, puoi toccare qualcosa? Patricia Taylor, puoi aprire una porta? Io ho sentito qualcosa Cos'era quella luce? La tua, va beh? Pronto, è pronto Fatto, è pronto Sì, GG, 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 in quanta soldi? No, dovevo fare la foto all'impronta, ci devo 10 dollari in più. Ehi, te lo, no. Che abbiamo sbloccato? Niente, l'hello 4. Oh, mi sentite? Sì. Ti sento, ti sento, sì, ho sbagliato il bottone. Adesso siamo del livello 4. Niente. Ah, non so, niente. Vai, Adore, scogli in altro posto e andiamo. Abbiamo, abbiamo usato il glow, abbiamo toccato il glow stick. Mi permette di esternare i luoghi grandi. Ah, è buono in scuola, è buono in scuola questo qui, il glow stick. Sì, a voglia. Mettiamo nell'aula, a palestra. No, uno io lo prenderei, tanto c'ho 125 dollari. 60 dollari, vi servono un paio di live action camera. Se vuole questo, prendo pure 2. Voi quanti soldi ci avete? Non ho preso uno. Mi sono 110. Ah, apposta, possiamo prendere. 125. Prendi un glow stick pure te, vale. Sì, sì. Tanto ci abbiamo i soldi per live action camera dopo. Ok, se non so, mi devo un attimo a riempire l'acqua. Vai, vai. Sì, intanto compramo. Fatto. Ma dici che potrebbe essere buono comprare un terpiede e mettere le videocamere più alte? Io penso sì, perché se no è un po' difficile mettere sempre sul coso, però, intanto al metodo si trova sempre vale l'attaccaccio. Vabbè, l'ho comprato, l'ho comprato, l'ho comprato. Non comprare il terpiede, dai. Quanto la pagano? Costa 25 dollari. Vabbè, apposta. Vediamo le foto, vediamo le foto. Questa è la foto che ho scattato nel paio. Guarda, guarda. Ah! L'osso. E questo è l'osso. Questa è la foto del brino. Ma che sarà quella di ieri? Sì, questa è quella di ieri. De Michael Jackson, quella di Michael Jackson. Sì, sì, De Michael Jackson. Guarda che bello che è quest'uomo, però. Dai, guardalo, guardalo. Valeria, è soltanto un'ascia. Come soltanto un'ascia? Valeria, è solo l'ascia. No, io vedo uno zombie. Io vedo proprio uno zombie. Un fantasma. Valeria, ti faccio condivisione schermo? Sì, sì, sì. Ti faccio lo screen e poi te lo invio. Sì, sì, sì. Se ti sposti, magari vedo. No, Valeria, io vedo una gamma, calco. Alessandro. Eh. No. Bravissimo. Gli spari? Gli stai sparando? Come fai a cambiare colore, oh? Farmhouse, street, high school. Farmhouse e streethouse. Streethouse, dai. Fuori, cosa? Tanglewood Street e Hedgefield Streethouse. Street o streethouse? Streethouse, street, abbiamo prima fatto. Non c'è. No, l'abbiamo fatto qui. Sì. No, l'abbiamo fatto. No, l'abbiamo fatto qui. Il teleportato è portabile Sì Sì Domiziano è arrivato primo Valerio sei a perdere i golpi Bro Valerio sei a perdere i golpi è arrivato primo a Domiziano Veramente siamo arrivati insieme Veramente no Ah ci penso che siamo arrivati insieme Sì 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 L'ho comprato io Io ho sempre gli stessi Videocamera UV Torce MF e radiolina Oh che vuole la chiave La prendo io L'ho presa Io l'ho presa io L'ho detto E cosa? Ah Aspetta Ok Dice il sole sole Kenneth Brauna Come? Il sole sole Kenneth Brauna De Kenneth aiuto a chi è Zeb Kenneth Caselli Kenneth Caselli sei qui Spettare Lezzo Lezzo Sto arrivando Dove siete? No qui no No qui no Stiamo andando giù eh E' esploso qualcosa E' qui E' qui Metto 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 la camera Qualcuno in casa mia Che c'è? C'ho da fare No No Fatto Fatto Grazie di avermi lasciato qui Non voglio un'altra volta Sì Ce l'ho io Sì Sì Perci Jackson sei qui? Perci Jackson Certo non vedo l'ora Come si chiama tizio? Kenneth Brown sei qui? Dacci un segno Orbe per caso? Chi c'è l'altro piedi? Kenneth Kenneth C'è qui Kenneth Scrivi qualcosa Cosa? Ma tu sei pazzo? Lì davanti a te Davanti a te Perché? Kenneth Dacci un segno Kenneth 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 Brown Kenneth Brown si chiama no? Oh questa 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 c'è Nelle camera oh Che vuol di più basso? Che vuol di più basso? Nelle camera oh Allo stampale perché non vedo niente ma dove l'hai visto Ale? è la tua no 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 la mia attiva dove ci hanno detto va bene bravo Lerio dai stanno laggata la live eh che cazzo vale il crocevisto dove l'hai messo? ce l'ho il crocevisto Kenneth Brown no no? pronto? 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 Kenneth Brown si chiama no? no non l'ho visto non l'ho visto che devo fare cosa devo fare? Kenneth Brown scrivi scrivi qualcosa sul libro libro scrivi qual'erano le frasi che forse non so sbagliare dacci un segno ci sei Kenneth Brown ha parlato ha parlato ha parlato spirit box e e quell'altra cosa quello che fumo non so come vedere le cose le impronte digitali Valerio dove cazzo hai messo le MFS sono là le MFS l'hai messo al contrario è è 4 è 4 è 4 ha aperto la porta ha aperto la porta ha aperto la porta dove c'è Ghost Orb si hai stato io eh? si quale porta ha aperto? quella da dove sei venuto ma guarda guarda come hai messo sto coso ma ti rendi conto? ma che coso? è la mia cosa 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 ma dove sta? è qui questo qui ce l'ho messo io è che guarda avrebbe fatto far flip non è un po' gli ubi cioè sul tavolo non ho messo ma dove? ah ecco che cosa dove c'è? sono impronte 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 via 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 è fatto è fatto qualcuno mi spieghi come si trova le impronte per favore aspetta dobbiamo andare in pronte con Valerio un attimo solo prendi aspetta Valera ok mi lascio la fotocamera all'entrata dove stanno le? puntala quella luce spessa qua sopra sulla porta ah quelle verdi un po' più indietro un po' più indietro vieni qua le ho viste le ho viste quelle verdi è la manata eccolo che? che cosa non ho capito eh ma ho detto scimo che cosa dobbiamo fare? spiegami parla parla vale ha fatto a cosa? allora via andiamo giù noi accendiamo le luci che dobbiamo fare adesso che dobbiamo fare via scappate scappate morto? attività 3 io sto pazzo ho detto lo pazzo quindi vai intanto vado 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 non mi ha contato l'improsse come prova non ho scattato troppo in fretta non ce l'ho non ce ne ho telecomando ok abbiamo Fairmouth Roadhouse weirdhouse woke up farmhouse ecco mi aspetta poi c'è anche a roadhouse chiamo preso dai facciamo roadhouse spiare abbiamo preso aspettate aspettate fermi 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 Brow Brow ma sono potenti vai agglomerato di fantasmi 26% di frame ho perso pronto? non è tutto non è tutto non è solo è stato un po' per questo per il sogno e allora non è stato un po' ora è stato un po' aspetta un po' novio ecco non mi ricordo che prendo le solite cose James Taylor non è il cantante james taylor che prendo io incendi no è un viubi un viubi ma casa vecchia nuova sai che questa non è troppo grande grazie valentia ho visto basso ecco sta tipo qui ah no perchè sto punto al frigo bravo bravissimo no sto scherzando sta qui dentro 6 gradi però è arrivato quindi sta qua c'è una chiave per la macchina mi sa vale è qui è qui da qualche parte no 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 è proprio un cappuccino sicuro perchè non metto no è nella cucina è nella cucina dove la devo mettere sta cazzo è qui è qui è un armadio qualcuno in casa mia è un femminicidio di nuovo bravissimo ma le sta proprio perfetto oh non si sta spottato ti prende un'aria ti prende un'aria intera l'impronta l'impronta le può da subito oppure no dipende se tocca qualcosa o fa qualcosa domiciano vuoi per caso dei sottaceti dei cose sottaceto dei treolini c'è treolini sottaceto c'è un'aria treolini c'è un'aria che ora non ci si vede la camion no no che mi vado io guarda qua è questo sicuro guarda non ci si vede l'entrata James Taylor james taylor puoi parlare ha detto yes ha detto yes yes con la porta aperta james taylor fai ancora musica ma la porta chi l'ha aperta? non sappiamo se ci sono ghost orb puoi scrivere sul tappino vado a vedere ghost orb che ha detto? temperatura? andate in segno per favore fermi un attimo vedo se ci sono ghost orb bonnie con le torce bonnie grazie no perchè ci sono le torce che confuscano tutto ghost orb ghost orb ghost orb ghost orb capito? si 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 ghost orb freezing tempered ci abbiamo tutti gli indizi valerio acqua sporca dove ho fatto la foto entro con la macchina acqua sporca e crocifisso dove vai va? dove vai va? dove va? dove stai andando? abbiamo aspettato che attacca cercate il lavandino ha una cucina senza il lavandino ma che cazzo è cucina di merda? adult ha detto adult adult puoi torcare l'acqua eccolo il lavandino puoi darci un segno tocca l'acqua qui non ci sono lavandino tocca una sotto sporca l'acqua agent taylor puoi sporcare dell'acqua dacci un segno tre 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 va bene va bene va bene io vado giù c'è un piano di sopra piano di sopra il mio bellissimo crocifisso volante non ho sbagliato come si apre il coso? si ho sbagliato volevo aprire il coso ma non ho sbagliato marco pasta goddio che spavento l'antifurto fuori casa mia ma per chi ci devi dare il segno adesso? james taylor dacci un segno segno dacci un taylor oh 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 adesso è l'osso 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 dove è l'osso? fai una foto levati dove ce la togli perché sennò non mi stanno sconto conta conta ok andiamo voldo come qui seven c'è il discorso ce la ci siamo in urbilla semifarti lli james taylor puoi sporcare dell'acqua puoi darci un segno a james taylor non è l'emf sporca l'acqua james taylor andiamo giù no lavandino posto james taylor james taylor tocca dell'acqua c'è stato? io io sto io io che spegni? che spegni? non c'è sembra niente sporca dell'acqua tocca dell'acqua bruh dell'acqua acqua sporca acqua sporca acqua azzurra caffè chi ha chiuso la porta? ah ma c'è un altro bagno qui che cazzo di stacce? perchè uno sgabbuccino nel bagno? and what? ha chiuso la porta ha chiuso la porta passi due due tre quattro quali erano gli indizi già mi sono scordati? freezing temperature? seguitemi un po' seguitemi un po' andiamocene acqua azzurra acqua chiara è lontano james taylor fatti vedere oh fai aprire la porta oddio ha chiuso la porta ci ha bloccato dentro ci ha bloccato non si apre ci sta attaccando ci sta attaccando scappando la luce 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 eeeh dove la succede? eeeh eeeh dove la succede? a proposito eeeh quando ce la stampo non puoi parlare d'orale? eeeh non si faccia più eeeh 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 via come tu dai con i viti? è un mero 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 l'hai visto? si let's gooo andiamo era uno spettro mi ha dato un botto di soldi a me chi ha detto l'informazione sbagliata oh le orbe io le ho viste io le orbe le ho viste no 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 le ho viste le orbe c'è stata la live dopo io le ho viste io le orbe l'ho viste assicuro al 100% comunque siamo a livello 6 eh come sono morto mi avvicinate mentre stavo a morire caluce accesa che devo fare ho perso tutto ho perso tutto è quello che ho fatto però mi siete venuti addosso che torce capito bene quello è il problema poi per di ve spostatevi bravi aspetta che devo ricomprare tutto io un'altra fotocamera non la compro no non ho niente la videocamera la ricompro no c'è no zero ma lei ho perso tutto ho perso tutto la videocamera non l'hai comprata ce n'hai una di base l'unico che l'ha comprata l'altra videocamera ah no vero sei te io non l'ho comprata eeeh compra sulla torcia potente che ho preso la doccia potente quale famo asylum ce sta famo asylum vai ti sei matto vabbè ce sto vai che devo fare dai che devo mettere asylum vai sta farmhouse roadhouse asylum brownhouse highschool e asylum asylum difficoltà direttanti mi raccomando che le luci accese quando quando uno sta a morire mi raccomando avvicinate vabbè avvicinate atto dopo faccio vedere alag cazzo ho messo pronto ma dove ti inizi no guardaci 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 vai start sei smutato sul discord va ti da vedo ti rosa speri fb peri rosa masoleiro masoleya grazie già stai diventa pazzo basoleio basoleira adesso guarda la mappa no vale perché non ho fatto mettere questa roba io ti ho detto che era grande perché voglio provare la favola no signor captain è morto è il potere dell'ssd ma io sto congestionato che coglioni ma solo oggi eccolo mai avute vai da bro volete almeno leggere quello che c'è scritto che da solo che da solo no assisti ad un evento panoramale con un membro della squadra senti l'eco l'eco è fantastico l'odio di sto gioco è troppo bello bè qualcuno urlate per favore brè a a e a a l'he l'he e Tiremo Torime Valerio Oh oh Luce è acceso Corri 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 Che corri No scappa Che colpo Valerio è cascato Valerio è cascato Cilla Ma che stavi indietro Se la fa così Ciao Ogni tanto mi senti fermi Come ho cominciato a andare indietro Ma la domanda Come si chiama il fatto Christopher Clark Non dico il suo nome Che polizia Christopher Christopher Ah quindi dormiva qui Christopher Era un partigiano Christopher Clark Christopher Clark Christopher Oddio Valerio che spavento Che sei uscito di là Ciao Eh si Entra di qua se decidi Grazie Valerio Grazie Valerio Oh no che schifo L'osso 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 Ok Ma chi cacchio Lo ritrova dopo Comunque qua non c'è la luce Ma non c'è È qui Ma qui l'avete accettato voi la luce? Qua si mi pare No Lo dico subito Sì ho acceso io qui Per vedere se c'era qualche cosa Oh per vedere se c'era qualche cosa Ah scusami Non io No no quella erano io Perché non c'è Birichino Oh yes Non ha funzionato Non ha funzionato Quanto sono i graffiti buggati Christopher Nolan Dove sei? No come si chiama? Batman era mediocre Quanto forte l'ho sentito Interseller è sovravalutato Eh no No così l'offendi Piange Poi piange L'acqua Ho aperto l'acqua Vedete se c'era la schifo Io l'ho aperto Vedete se c'era l'acqua Azzurro Però non faccio acqua Perché non è quello È quello È quello della tua parte D'orime Ameno Interimus Sta da fare Latire Dacci un segno Com'è se chiamava questo qua Mi non me lo ricordo Cristophan Wolken Iwan McGregor Tu fratello che urla Mi fa piacere i denti Il fantasma è Non c'è il fantasma Wadio Let's play Il fantasma è stato Il fantasma è stato L'acqua è stato L'acqua è stato L'acqua è stato L'acqua è stato Stai camminando lentissimo Troppo velocemente Aspettatemi Vediamo se fai lo sgargiullo Anche a mezzanotte Oh stannotte Ci rigiochiamo Su gioco Oh è qui È qui È qui 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 Do la metto No mi sa che sta sotto Ah no sta qui Fa qui Do la metto Do la metto La telecamera Ma che sta piano sotto Ok vale Sì sì Ci sta piano sotto No che sta Questa mappa Sì sì Ci sta Allora sotto Guardalo qui Do sta E io ho messo la telecamera lì Sei qui Va bene lì ha telecamera Però Sì sì perfetto Ma stava l'entrata Stava Ma porca Ma porca No l'ho lasciata spinta No l'ho lasciata spinta Perché mi piaceva Mi piaceva Tenere la spenta Io prendo Ho preso il glow stick Quali sono gli obiettivi Ci sono 16 telecamere In sto coso Cambia finché non troviamo Andiamo 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 Aspetta 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 Eccola Che cosa Eccola Eccola Quindi tocca a me Sì Arrivo Arrivo Arrivato Dove neppure io Eh sì È tutto io Do portavo Vale Devi decide Devi decide Glow stick Glow stick Treppiede O UV Treppiedi Ma io voglio Col glow stick E allora Porto E allora porto Questo May Valerio Non so dove sei Urla con la voce V Ecco Ti ho visto Ma perché hai portato Lo col glow stick Perché questo Questa aria funziona Questo aria No Sì ma è meglio L'UV Oh senti Yeah Il treppiede Hai portato Sì Sì Così metti meglio La telecamera Dai Dove lo metto Come c'è No che è per caso Il treppiedi Sta lì Ma bravo Non me l'ha preso Ti butto fuori Dalla lobby Ho sentito Ho sentito La notifica Di whatsapp Lì c'è il glow stick Oh mamma mia Quanto piangi Ti è Non c'è l'olio Non c'è l'olio Non c'è l'olio Non c'è l'olio Arrivo col treppiedi Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando L'hai preso No Valeria C'ho il treppiedi Ma come puoi portare Tre oggetti Valeria La radio La radio Vale No la radio Faccia Dove cazzo sta Fammi luce Vale Mi sono perso Il treppiedi Perché è lì Valeria Non move Non fare move Eccala Guarda che succede Mo Improvazione Questa è un spettro Ma non spettrò Non fa Che cosa termine Fa O Ti Non Non Per Lo spettro Lo spettro Per si va non mi lasciate qua temperatura ho visto che facevi le cosette dalla bocca che cosa niente dove c'è la telecamera si vede puoi scrivere sul libro puoi toccare la porta puoi toccare una porta che c'è e 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